Modulo di tangente quadro di x meno 1 meno 2 tangente quadro di x minore di 0. Come al solito andiamo a discutere come vuole la regola sulle disequazioni con valori assoluti, il valore assoluto. Valore assoluto di tangente quadro di x meno 1, lo ricordo vale, tangente quadro di x meno 1 se tangente quadro di x meno 1 è maggiore o uguale di 0. Vale il contrario, quindi 1 meno tangente quadro di x se invece tangente quadro di x meno 1 è negativo. Vediamo dove tangente quadro di x meno 1 è maggiore o uguale di 0. Ovviamente l'intervallo contrario sarà l'intervallo dove invece è negativo tangente quadro di x meno 1. allora per risolvere la diseguazione tangente quadro di x meno 1 maggiore o uguale di 0 questa è una diseguazione di secondo grado nella variabile tangente x pura verificata certamente nei valori esterni del tipo tangente di x minore o uguale di meno 1 oppure unione tangente di x maggiore o uguale di 1 andiamo a rappresentare il grafico della tangente direi nel periodo 0 pi greco in questo caso ecco qua vi ricordo che la tangente non è definita in meno pi mezzi, pi mezzi, 3 pi greco mezzi qua abbiamo l'origine, l'asse delle y, l'asse delle ordinate ecco qua il primo pezzo e poi ovviamente qui si ferma fermiamoci a questo periodo 0 pi greco qui ovviamente abbiamo pi greco mezzi quindi togliamo questa parte qua e concentriamoci su questo pezzo qua tracciamo la retta orizzontale di equazione y uguale meno 1 e andiamo a vedere dove la tangente, dove il grafico della tangente sta più in basso rispetto a y uguale meno 1 tracciamo la retta verticale che ci fa vedere dove la tangente interseca la retta y uguale meno 1 e notiamo subito come tangente vale meno 1, lo ricordo, nel secondo quadrante quindi a 3 pi greco quarti vedete che la soluzione infatti è tangente di x minore uguale meno 1 quando x è compreso fra pi greco mezzi e 3 pi greco quarti il k pi greco li metto alla fine unione che cosa? andiamo a vedere invece dov'è che la tangente è più in alto di 1 quindi tracciamo la retta y uguale 1 vale 1 pi greco quarti vedete che la soluzione è eccola qua x compreso fra pi greco quarti e pi greco mezzi stavolta quindi vogliamo metterla bene, avremo che x compreso fra pi greco quarti incluso, pi greco mezzi escluso, unione x compreso fra pi greco mezzi escluso, 3 pi greco quarti incluso quindi mettendo insieme tangente quadrato di x meno 1 è maggiore o uguale di 0 quando x è compreso fra pi greco quarti e 3 pi greco quarti entrambi inclusi con intersecato x diverso da pi greco mezzi più k pi greco quindi possiamo scrivere questo verrà così quando x è compreso fra pi greco quarti più k pi greco minore o uguale di x minore o uguale di 3 pi greco quarti più k pi greco intersecato con x diverso da pi greco mezzi più k pi greco ma allora vuol dire che sarà negativo tangente quadrato di x meno 1 dove? beh ovviamente da 0 a pi greco quarti e da 3 pi greco quarti a 2 pi greco quindi vuol dire quando k pi greco sarà ovviamente minore o uguale di x minore di pi quarti più k pi greco unione 3 pi greco quarti più k pi greco minore o uguale di 2 pi greco più k pi greco questa è la soluzione contraria a questo punto discusso il modulo così come va fatto andiamo a unire le soluzioni di due diseguazioni alla prima al posto del modulo tangente quadrato di x meno 1 ci mettiamo tangente quadrato di x meno 1 attenzione definita in questa soluzione qui quindi avremo tangente quadrato di x meno 1 meno 2 tangente quadrato di x minore di 0 la sommiamo otteniamo che meno 1 meno 2 chiedo scusa meno 1 meno ovviamente meno 2 tangente quadrato di x più 1 è un meno 1 tangente quadrato di x minore di 0 moltipliciamo per meno 1 entrambi i membri quindi cambia anche il verso otteniamo in definitiva che tangente quadrato di x più 1 è maggiore di 0 ma questa è definita per ogni x a parte l'entereale perché abbiamo la somma di due quantità che sicuramente sono positive ci chiedono quando è positiva chiaramente sempre quindi la soluzione della prima abbiamo come al solito due casi a e b quindi il caso a come soluzione questo qui perché sempre intersecato con questo ci dà questo ovviamente quindi vuol dire che soluzione sarà a x compreso fra pi greco quarti più k pi greco con pi greco quarti incluso e 3 pi greco quarti più k pi greco 3 pi greco quarti incluso intersecato con x diverso da pi greco mezzi più k pi greco vediamo invece la b a questo punto la b si risolve mettendo al posto del modo di tangente quadrato di x meno 1 1 meno tangente quadrato di x e poi ovviamente meno 2 tangente quadrato di x meno di 0 allora andiamo a fare le nostre somme otteniamo che 1 meno 3 tangente quadrato di x è minore di 0 nuovamente moltiplichiamo entrambi i membri per meno 1 otteniamo che 3 tangente quadrato di x meno 1 è maggiore di 0 se moltifichiamo per un numero negativo entrambi i membri dobbiamo ricordarci di cambiare il verso nuovamente come prima abbiamo a che fare con un'eseguazione di secondo grado pura nella variabile tangente x anch'essa verificata per valori esterni che sono tangente x ovviamente minore di meno 1 fratto radice di 3 oppure tangente x maggiore di 1 fratto radice di 3 infatti verrebbe tangente quadrato di x uguale a un terzo all'equazione associata pura che vuol dire tangente di x uguale più o meno 1 fratto radice di 3 o radice di 3 su 3 valori esterni quindi ecco riandiamo di nuovo a rappresentare la tangentoide non è definita in pg mezzi ci fermiamo ovviamente relativamente al periodo 0 pg eccolo tracciamo prima la retta y uguale a meno 1 su radice di 3 e notiamo che la tangente interseca questo valore assume questo valore ha ovviamente ve lo ricordo 5 pi greco sesti nel secondo quadrante dov'è che la tangente sta più in basso rispetto vedete in questo pezzo qui vedete cioè da pg mezzi a 5 pg sesti quindi la soluzione di tangente di x minore di meno 1 su radice di 3 è x compreso fra pg mezzi e 5 pg sesti ovviamente non metto per adesso il capo pg ma prima però c'è un'altra soluzione infatti se traccio la retta orizzontale y uguale 1 su radice di 3 vado a vedere adesso dove la tangente sta più in alto rispetto al la tangente vi ricordo vale 1 su radice di 3 a pg sesti vedete che la soluzione è x compreso fra pg sesti e pg mezzi ma allora possiamo scrivere unendo x compreso fra p sesti e 5 p sesti interseccato con x diverso da pg mezzi ovviamente con il k pg quindi avremo che in definitiva 3 tangente quadrato di x è maggiore di 0 quando tangente di x è minore di meno 1 su radice di 3 oppure tangente di x è maggiore di 1 su radice di 3 che vuol dire x compreso fra pg sesti e 5 pg sesti interseccato con x diverso da pg mezzi più k pg ovviamente metto anche k pg visto che ci sono altrimenti qualcuno mi bacchetta mi corregge fa bene in questo caso x compreso fra pg sesti più k pg è 5 pg sesti più k pg interseccato con x diverso da pg mezzi più k pg noi poi però ce l'avevamo già messo a questo punto andiamo a unire a e b cioè vuol dire che la soluzione di quella disequazione con il valore assoluto è l'unione di a e di b attenzione però prima di unire b b non è ancora b questa dobbiamo intersecarla con la condizione di distanza di b cioè vuol dire che qua abbiamo 0 pg sesti pg quarti pg mezzi o poi abbiamo dunque vi ricordo che 3 pg quarti vale in gradi 135 gradi e 90 più 45 5 pg sesti vi ricordo vale 90 più 60 150 quindi vuol dire che dopo pg mezzi abbiamo nell'ordine 3 pg quarti e poi 5 pg sesti ovviamente poi tutto continua fino a 2 pg perché non c'è altro ovviamente allora andiamo a vedere dove è verificato il sistema stiamo facendo un sistema perché vogliamo vedere dove questa soluzione qui che è la soluzione della disequazione b interseca la condizione di distanza della soluzione b allora abbiamo la condizione di distanza è x compreso fra 0 e p quarti x compreso fra 3 p quarti e 2 p greco poi vediamo che la soluzione che abbiamo ottenuto della disequazione che abbiamo fatto la seconda è x compreso fra p sesti e 5 p sesti con x diverso da più di con mezzo che però non compare allora abbiamo che guardate questa è la soluzione del sistema questa è la soluzione quindi vuol dire che la soluzione di b non a caso ho lasciato apposta vuoto è x compreso fra p greco sesti più k p greco e p greco quarti più k p greco ovviamente p greco quarti lo includo una volta e l'altra volta no perché è lo stacco del modulo unione x compreso fra 3 p greco quarti e 5 p greco sesti più k p greco andiamo a questo punto semplicemente come vuole la regola sull'eseguazione di con valori assoluti ad unire a e b cioè la soluzione di quella è l'unione di a e b avete visto come si fa? ripeto discuto il modulo indico la prima discusione con a la seconda con b ciascuna delle due soluzioni che vado a trovare le interseco le condizioni di esistenza di a e b unisco a e b vado a questo punto a unire attenzione unire vuol dire non intersecare unire vuol dire prenderle tutte quindi abbiamo 30 gradi p greco sesti p greco quarti p greco mezzi 3 p greco quarti 5 pieco sesti allora la prima è x compreso fra p quarti e 3 pieco quarti con pieco mezzi escluso la seconda è x compreso fra p sesti e 5 pieco sesti per meglio dire x compreso fra tanto ormai si dovrebbe già capire qual è la soluzione x compreso fra p sesti e p quarti unione x compreso fra 3 pieco quarti e 5 pieco sesti allora partiamo da sinistra a destra e uniamo tutto se uniamo tutto abbiamo da qui questo c'è questo c'è questo c'è quindi vuol dire evidentemente che come potete notare ricordandoci che pieco mezzi è escluso la soluzione di questa disequazione con valore assoluto non facilissimo ma nemmeno difficile è x compreso fra pieco sesti e 5 pieco sesti interseccato con x diverso da pieco mezzi cioè quel k pieco sarà x compreso fra pieco sesti più k pieco con pieco sesti escluso 5 pieco sesti più k pieco interseccato con x diverso da pieco mezzi più k pieco questa è certamente la soluzione corretta di questa disequazione con valore assoluti che abbiamo già risolta tre volte ma vi invito a risolvere in questo modo ecco qua è Grazie.